No, grazie, già ce l'ho internet. Sì. No, non mi serve un altro filtro per l'acqua. Grazie. No, sia cortese, è già la terza volta che mi chiama. Non mi disturbi più. Posso? No, guardi, non ci si mette anche lei adesso. Io non vendo niente, sono il garante della privacy. E mi puoi aiutare? Si è iscritto al registro pubblico delle opposizioni. Sì, ma c'è ancora qualcuno che insiste? Eh, cos'altro posso fare? Se continua ad essere disturbato con proposte commerciali indesiderate, lo segnala al garante che sanzioni i responsabili. Per sapere come difendersi, consulti il nostro sito. Ma lei sa proprio tutto di privacy. Ci lavoro da quando sono nato. Ora che mi conosce, può contattarmi quando vuole. Se proteggi i tuoi dati, proteggi te stesso.